memorizzate attentamente questa parola rebirth rinascita è davvero quello che dice di essere questa parola o forse c'è un significato nascosto beh se volete scoprirlo non dovete fare altro che continuare a vedere questo video perché oggi faremo la recensione proprio di rebirth rebirth è un film americano del 2016 diretto da carl muller e questo film possiamo metterlo nella categoria thriller perché non c'è altro genere per descriverlo di cosa parla questo film che tra parentesi per me è stata una piacevole scoperta perché assolutamente non mi sento di bocciarlo anzi lo promuovo con un ottimo voto e fin parla di kyle un uomo tutto lavoro famiglia che vive una vita predefinita quindi va al lavoro si porta a casa lo stipendio sta con la famiglia che è composta dalla moglie mary dalla figlia gil poi si allena come passatempo e niente poi torna nuovamente per l'altra giornata di lavoro insomma è un uomo che vive una vita normale a un certo punto nel suo ufficio piomba un suo amico zach che gli dice o va che sto per fare un'esperienza emozionante ti consiglio di accettare più che consiglio in realtà lo sta quasi forzando a farlo poi kyle viene chiamato dal suo capo ma si conclude in un nulla di fatto torna in ufficio zach è sparito ma kyle scopre sul suo computer un post it con scritto rebirth ed è proprio il titolo del film ma anche il nome del programma che kyle sul quale kyle inizierà a documentarsi inizialmente per poi partecipare il programma rebirth occupa il weekend sale su questo pullman dove ci sono altre persone presumibilmente ignare di quello che stanno per affrontare oppure sono a conoscenza non si sa perché sono tutti con lo sguardo molto neutro sembrano quasi degli automi e niente quando kyle arriva lì a rebirth che è una sorta di struttura un po particolare ecco non sa che in quella struttura avvengono delle cose un pelino strane ma vi fermo subito e tra parentesi mi fermo anche qua col racconto perché non voglio farvi troppi spoiler mi fermo qui con la trama perché il film oltre a essere un thriller è anche intrigante monta molto bene la tensione infatti il film parte direttissimo cioè vediamo proprio kyle che fa lavoro famiglia allenamenti insomma fa questi step molto regolarmente però poi quando arriva zach la narrazione inizia un attimino a rallentare perché ci devono dare il contesto se no non si spiegherebbe il titolo del film ma quando kyle arriva lì a rebirth veramente ragazzi lì la mente inizierà ad aprirsi ci sono addirittura delle parole chiave tipo respira respira oppure per esempio stai fluttuando come un'onda oppure abbandonati alla potenza dell'oceano per esempio questa cosa avvengono in una determinata stanza poi ce n'è un'altra dove tipo c'è una medium che sta cercando di contattare un qualche spirito poi lì anche avvengono delle cose assurde poi tipo kyle va in un'altra stanza se vi state se vi state chiedendo ma hai detto che non facevi spoiler sì vi sto dicendo le stanze che attraversa ma non vi dico cosa succede in dettaglio ok arriva poi in un'altra stanza dove rischia di essere sedotto non dico da chi e non vi dico come succede questa cosa però è il dopo aver attraversato queste stanze che la narrazione prende una piega assurda succedono tantissime cose ed è qui veramente che mi interrompo perché man mano che andrete avanti con la visione vi chiederete ma cosa sta succedendo in questo film ma sto davvero guardando questo film che cosa sta accadendo a questo povero uomo oppure per esempio quando arriviamo a quello che dovrebbe essere il finale ma in realtà c'è un fake finale quindi un finale finto perché sembra essere finto ma in realtà poi è bello lontano da essere finito il film infatti appunto c'è il finale falso e il finale poi quello vero e proprio che ha dell'assurdo quindi vi consiglio di non peraltro perdervi titoli di coda perché lì c'è anche una cosa un pochino che fa ridere non vi dico che cosa ovviamente per non spoilerare però è veramente un film secondo me ben confezionato è doppiato anche in italiano e che dire è ben realizzato sto film non conosco nessuno del cast quindi per me sono tutti attori sconosciuti però devo dire che se la sono cavata piuttosto bene ho riconosciuto anche qualche voce nel doppiaggio italiano però per il resto devo dire è un'ottima visione e se vi piacciono i thriller un po misteriosi magari con qualche colpo di scena ben assestato questa è una visione che vi consiglio come voto a rebirth do sette e mezzo vi do appuntamento alla prossima recensione da material god è tutto alla prossima